Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV, apriamo parlando di nuovo di un altro incidente, il terzo nel territorio aretino avvenuto in una piscina ai danni sempre di un bambino. Per fortuna le sue condizioni non sembrerebbero gravi anche perché la tempestività dei soccorsi ha evitato il peggio, il servizio. Un altro incidente in piscina nella retina, la dinamica non è ancora chiara, è successo nella piscina comunale di Bibbiena dove un bambino di tre anni mentre si trovava in acqua è stato colto da un malore. È stato rianimato dal personale addetto alla sorveglianza che ha utilizzato anche il defibrillatore. Sul posto un'ambulanza infermierizzata di Bibbiena, il Pegaso, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Il bambino è stato poi trasportato all'ospedale Meyer di Firenze in codice 3. In questa estate è il terzo incidente in piscina nella retina che vede coinvolti i bambini, uno purtroppo mortale, una bimba di appena due anni caduta in una piscina a Bucine morta dopo una settimana al Meyer di Firenze. Sul caso è stata aperta un'inchiesta, l'autopsia sul corpo della piccola ha rivelato che la causa della morte è stata l'acqua finita nei polmoni e il cloro della piscina, fatali per lei in pochi attimi. Nei giorni scorsi gli inquirenti, tra cui anche i carabinieri del NAS di Firenze, hanno fatto alcuni accertamenti nell'agriturismo. La vasca sarebbe di dimensioni ridotte, sotto ai 50 metri e sotto ai 20 utenti contemporanei, dunque non necessiterebbe la presenza di un bagnino. La Toscana si appresta a vivere due giorni letteralmente di fuoco, secondo le previsioni del Consorzio Lamma. Sabato 10 e domenica 11 agosto il termometro potrà toccare valori ancora più alti di quelli già raggiunti nei giorni scorsi, quindi fino a 40 gradi in molte zone della Toscana, in particolare sulla piana fiorentina, pratese, pistoiese, ma anche in alcune zone del Pisano e in Maremma, dove per esempio si potranno registrare 40 gradi anche a Grosseto, nonostante la vicinanza al mare. E sulle località della costa in generale saranno temperature sui 34 e 36 gradi. Costa dunque che in questi giorni indubbiamente sarà raggiunta da tanti vacanzieri e questo fine settimana è forse il più trafficato dell'anno. Un fine settimana da bollino nero. Il terzo fine settimana di grande esodo estivo si prospetta il più trafficato di tutto il periodo. Lungo la rete Anas per il secondo weekend di agosto è infatti atteso traffico in costante aumento nella settimana di ferro agosto. Viabilità Italia prevede bollino nero in particolare nella mattinata di sabato 10 agosto e bollino rosso nella giornata di domenica 11 agosto, spostamenti in netta crescita dai grandi centri urbani in tutta Italia verso le località di villeggiatura, di mare al sud e di montagna al nord e verso i confini di stato. Per consentire la fluidità del traffico, Anas ha potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e limitato la presenza dei cantieri fino al 3 settembre, sospesi in 906 il 70% di quelli precedentemente attivi. Il divieto di transito ai veicoli pesanti è in vigore poi sabato 10 agosto dalle 8 alle 22 e domenica 11 dalle 7 alle 22. E proprio nelle giornate da bollino rosso e nero, nei tratti a retini a 1 e 45 della Perugia-Bettolle, verranno dislocate ambulanze supporto 118 per facilitare i soccorsi e proteggere le persone intrappolate nelle code, un piano operativo messo a punto dal gruppo Maxi Emergenze dell'Asla Toscana Sud-Est. La risposta è in minor tempo che viene garantita avvicinando questi mezzi ai caselli autostradali anche in caso di microtamponamenti che spesso si verificano a causa dell'incidente principale. Oltre che a garantire un soccorso in tempi rapidi, garantisce anche una risoluzione dell'evento incidentale in un minor tempo, quindi fa in modo che le code non incrementino ulteriormente, quindi a facilitare anche il defluire dei mezzi bloccati. Ruba strumenti da lavoro mentre a sotto sorveglianza speciale per un altro reato è stato arrestato dai carabinieri. Il servizio. Trapani, smerigliatrici, martelli pneumatici, avitatori, frese, set completi di punte, dischi da taglio e molti altri utensili professionali. A ritrovare le attrezzature da cantiere rubate presumibilmente dai furgoni parcheggiati in un piazzale di un hotel di ponte San Giovanni nel Perugino sono stati i carabinieri della compagnia di San Sepolcro. I militari hanno scovato gli autori del furto a bordo di un'auto. Si tratta di due cittadini italiani con precedenti penali, uno dei quali già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale e che adesso è stato arrestato in flagranza e denunciato a Pedelibero assieme all'altro complice per il furto. Il valore commerciale delle attrezzature rubate è stimato sul mercato in alcune migliaia di euro, senza contare le perdite per i ritardi dei lavori da eseguire che avrebbero portato in forte sofferenza economica le due ditte vittime del colpo. Gli inquirenti non escludono che le attrezzature rubate potessero essere utilizzate anche per colpire altre abitazioni dell'aretino, specialmente nel periodo estivo. Corrono dietro al ladro e sventano un furto da circa 3.000 euro in tabacchi. È successo a Cigiano, frazione del comune di Civitella in Valdichiana. Nel paese c'è un'attività di alimentari e tabacchi e questa mattina le due titolari stavano scaricando proprio i tabacchi appena acquistati dalla loro auto. Un giovane si è avvicinato, ha portato via un pacco contenente sigarette. Poco lontano c'era un palo che lo stava aspettando proprio per la fuga. Valore dei tabacchi circa 3.000 euro. Una delle due commercianti si è accorta di quanto stava accadendo, ha iniziato ad urlare l'altra. Intanto è iniziato invece a rincorrere il ladro che alla fine ha abbandonato la refurtiva ed è riuscito a guadagnare la fuga. Sul caso indagano le forze dell'ordine. Lo ricorderete il problema era stato sollevato dal sindaco di Montevarchi Silvia Chiasai e non solo il problema a zanzare al pronto soccorso della Gruccia in Valdarno. Nei prossimi giorni ancora disinfestazione. Le ultime segnalazioni solamente qualche giorno fa a pubblicare sui social le immagini che testimoniano la presenza di zanzare all'interno del pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria alla Gruccia era stata ancora una volta la sindaca di Montevarchi Silvia Chiasai Martini. Adesso l'Asla Toscana Sud-Est annuncia una nuova disinfestazione dopo quella effettuata tra l'8 e il 9 agosto lungo tutta l'area perimetrale della struttura e che si somma agli altri trattamenti sia interni che esterni effettuati sino ad adesso e in programma anche nei prossimi mesi concordati con gli uffici tecnici dopo attenti sopralluoghi. Dunque dalle 20 del 10 agosto alle 8 dell'11 agosto sarà effettuato l'intervento di disinfestazione straordinario delle zanzare all'interno del pronto soccorso dell'ospedale Valdarnese. Per ottimizzare e svolgere l'intervento nella massima sicurezza del personale e dell'utenza tutte le attività di pronto soccorso saranno trasferite al poliambulatorio 1. L'accesso sarà consentito dall'ingresso lato cappelline. La decisione è stata assunta dalla direzione del presidio ospedaliero di concerto con il servizio di prevenzione e protezione, l'ufficio tecnico, il direttore e il coordinatore del pronto soccorso. La ASL Toscana Sud-Est sul podio dei premiati per l'edizione 2024 dell'iniziativa Animali in Città di Lega Ambiente. Si tratta del riconoscimento che Lega Ambiente assegna quelle realtà virtuose che si distinguono per l'offerta dei servizi e le azioni dedicate proprio a tutela degli animali, compreso anche la piaga degli abbandoni. Il premio riguarda anche gli interventi proprio per recuperare i cani, la gestione delle anagrafie e dei canili sanitari. Ci spostiamo adesso invece in pediatria all'ospedale San Donato di Arezzo dove da aprile c'è un servizio di psicologia dedicato. Sentiamo perché nel prossimo servizio. Una psicologa dedicata all'interno del reparto di pediatria del San Donato di Arezzo per fronteggiare le emergenze che arrivano, ci dice il direttore, il dottor Martini, tutti i giorni. Sono problematiche varie che vanno da cose abbastanza lievi ma non di poco conto, quali le crisi di panico, gli attacchi di ansia, cose ben più importanti come problematiche di autolesionismo, addirittura tentativi di suicidio purtroppo esistono anche queste situazioni qua. Per fronteggiare questa situazione c'è una psicologa in pianta stabile, un servizio frutto della collaborazione tra il Dipartimento Materno e Infantile e quello della Salute Mentale, tra le emergenze sempre più numerose, i disturbi alimentari. Stiamo parlando dell'anoressia soprattutto che colpisce soprattutto il sesso femminile ma non solo. In questo momento è passato una paziente proprio con queste problematiche. Inoltre il supporto psicologico è fondamentale in caso di diagnosi di malattie croniche come il diabete infantile e l'asma. Quindi capite una diagnosi importante con ricadute molto importanti dal punto di vista logistico ma anche proprio del vissuto psicologico della famiglia e del paziente. E qui anche qui è di fondamentale importanza la figura dello psicologo dedicato. Ma in un'età così piccola, comunque ancora pediatrica, si lavora più sul paziente o sui genitori? Con entrambi. Con entrambi. I due lavori non si possono, come ha detto lei giustamente, insomma in un'età così precoce. Sono due strade che non si possono dividere. Quindi il lavoro si deve, si intersega. Vicino a te partirà a settembre la sperimentazione di questo sportello di sostegno e ascolto organizzato dai volontari della Polizia di Stato e della Protezione Civile con il patrocinio del Comune di Arezzo. Ancora una conferma della solida alleanza tra istituzioni, afferma il vice sindaco di Arezzo Lucia Tanti. Lo sportello di ascolto, aiuto e accoglienza sarà organizzato e curato dai volontari di Polizia e Protezione Civile. Partirà, come dicevamo, a settembre per sei mesi di sperimentazione e sarà attivo due volte a settimana con orario 16-19. Il progetto Nidi Gratis della Regione Toscana sono state oltre 13.000 le domande dalla Regione, un contributo medio a famiglia di 2.800 euro. Sono oltre 13.000 le domande per il contributo Nidi Gratis accettate dalla Regione Toscana con il contributo medio assegnato a ciascuna famiglia di 2.802 euro. Di queste quasi 1.200 sono nell'aretino. Il progetto Nidi Gratis, fortemente voluto dalla Regione Toscana, è diventato una sorta di bandiera delle nostre politiche educative, ha detto il presidente della Regione Eugenio Gianni. Nell'anno scolastico 2023-2024 questo progetto ha dato la possibilità ad oltre 12.000 famiglie con ise inferiore ai 35.000 euro di mandare il proprio figlio o figlia al Nido Gratis. Il nuovo bando ha esteso questa possibilità a 1.000 bambini in più, con 13.000 domande accettate. A settembre poi il bando sarà nuovamente aperto, dando modo di partecipare anche chi, per varie ragioni, non ha fatto ancora in tempo a cogliere questa opportunità. Contiamo così di portare a circa 15.000 il numero dei beneficiari. La Regione Toscana, adesso con il decreto che contiene l'elenco dei beneficiari, ha assegnato le risorse comuni per la gratuità del Nido a partire da settembre. L'elenco è in forma anonima, nel senso che non vi compaiono i nomi delle famiglie, ma il codice assegnato alla domanda di ciascun beneficiario, che poi nei prossimi giorni riceverà una comunicazione personalizzata. La formula di assegnazione prevede che le risorse arrivino dalla Regione direttamente nidi aderenti a Nido Gratis per il tramite dei comuni. Per le famiglie che hanno un'ise tra i 35.000 e i 50.000 euro, sarà invece possibile un sostegno attraverso un altro bando, nidi di qualità, che si rivolge ai comuni e non direttamente ai cittadini, con il quale vengono destinati 10 milioni di euro alle amministrazioni comunali per la qualificazione dei servizi per la prima infanzia. Con il voto unanime della Giunta dell'Unione dei Comuni del Pratomagno, il sindaco di Castiglion-Fibocchi, Marco Ermini, è stato rieletto presidente dell'Unione, che racchiude i comuni di Castelfranco-Piandiscollo, Orociuffenna e Castiglion-Fibocchi. La conferma per un secondo mandato è segno di fiducia e di responsabilità, ovviamente, verso l'ente. Siamo allo sport. Aretino, il preparatore del Volley Slovenia, adesso impegnato nelle Olimpiadi a Parigi. Con quale bagaglio si torna a casa da Parigi? Un bagaglio sicuramente di un'esperienza che è molto importante, non soltanto dal punto di vista curriculare, come potremmo dire, ma anche dal punto di vista tecnico, perché l'ambiente che si può trovare all'interno delle Olimpiadi è un ambiente multiculturale estremamente importante, che si può trovare solamente là e è un'occasione di arricchimento culturale, sia personale che sportivo, importantissimo. Gioele Rossellini è tornato da poche ore ad Arezzo. Era infatti partito alla volta di Parigi come preparatore fisico della Nazionale di Pallavolo Maschile della Slovenia, che per la prima volta nella propria storia ha ottenuto una qualificazione per i giochi olimpici. È stata un'esperienza fantastica. Ho già lavorato per due cicli olimpici all'interno di sport olimpici, ma questa è stata la mia prima partecipazione fisica al villaggio olimpico con una squadra che ha partecipato anch'essa per la prima volta, la prima storica qualificazione per la Slovenia alle Olimpiadi. Quindi non ci sono aggettivi se non aggettivi estremamente positivi per descrivere un'esperienza da, speriamo non una volta nella vita, ma quel tipo di esperienza là. La Nazionale Slovena di Pallavolo Maschile si è fermata al quinto posto sconfitta dalla Polonia. Il risultato sicuramente era definire storico. Rimane quel retrogusto un po' amaro perché il potenziale della squadra è un potenziale straordinario che è stato costruito negli ultimi 15 anni da quella che noi abbiamo definito la Golden Generation della Pallavolo Slovena e sapendo di poterci giocare ogni partita contro ogni avversario, poi ogni torneo dà i risultati che deve dare, ogni partita è una storia a sé. Joella Parigi ha avuto la responsabilità di occuparsi di ambiti come la prevenzione degli infortuni, la preparazione atletica e l'allenamento per la forza. Quindi mi occupo fondamentalmente della salute fisica in primis degli atleti, ma poi della cosa che io ritengo essere quella più importante dopo la salute, ossia la performance, far sì che i ragazzi rendano non al 100% ma al 101% delle loro capacità fisiche all'interno delle competizioni più importanti durante la stagione sportiva, in questo caso estiva, che è quella delle nazionali. L'Italvolle invece dopo la sconfitta con i padroni di casa della Francia adesso punta comunque al podio. si giocherà la medaglia di bronzo nella finale per il terzo posto contro gli Stati Uniti, agli azzurri l'in bocca al lupo di Rosellini. Sono tutti veramente in gamba, meritano assolutamente un risultato positivo in queste Olimpiadi, sicuramente puntavano a qualcosa in più, non c'è da nasconderlo, da campioni del mondo in carica, però sicuramente possono essere in grado di fare l'ultimo passo per prendere la medaglia di bronzo. Gabriele Gambini, parliamo adesso di nuoto, entra nella storia del nuoto aretino, l'atleta della Chimera Nuoto, nato nel 2005, ha concluso i campionati italiani cadetti al Foro Italico di Roma con la vittoria di un oro nei 200 stile libero, un argento nei 400 stile libero e un bronzo nei 200 misti, riuscendo a chiudere la più importante manifestazione giovanile della stagione con ben tre medaglie al collo su un totale di quattro gare disputate. E questa era l'ultima notizia per il nostro telegiornale. Grazie per l'attenzione e arrivederci.